Gianni, partiamo da M Group, come nasce e a chi si rivolge? Allora, la nostra azienda, sono circa 30 anni nel settore dell'arredamento, tappezzeria, soprattutto tappezzeria e tendaggi, sia interni che esterni. Siamo artigiani, siamo un gruppo di giovani, diciamo così, mi ritengo giovane, ho 50 anni, quindi penso, cerco di esserlo, però gli acciacchi ci sono. Comunque, lavoriamo sempre in questo settore, che è quello della tappezzeria, collegato ai tendaggi interni, come dicevo, esterni e siamo rivenditori di vari marchi, leader del settore, tra cui Corradi, della pergola bioclimatica qui presentata. Per andare nell'outdoor, però per andare nell'outdoor c'è un'altra avventura che ha preso piede, ed è Soli, racconta Soli. Ecco, qui Soli è una nuova partnership tra due, dico, due marchi importantissimi qui nel posto, che sono la Ferretti Tende e M Group, entrambi nel mondo del tendaggio. Abbiamo fatto parecchi lavori in passato, già collaborando, e allora con tutte le nostre collaborazioni, progetti portati avanti, eseguiti, diciamo brillantemente, abbiamo pensato di creare un marchio e consolidare la cosa, due, diciamo... Per andare a intercettare questo settore, no? Sì. Nell'outdoor e dell'ombreggiatura... Sì, perché, diciamo, chiamiamo il nostro socio Sergio Ferretti, molto noto nel settore del tendaggio esterno, è molto un grande venditore, veramente un bravo professionista. Noi siamo degli artigiani bravi, diciamo, per quanto riguarda il montaggio, l'assemblaggio delle pergole bioclimatiche, tende e via dicendo. E vi rivolgete all'architetto, fondamentalmente? Ci rivolgiamo soprattutto agli architetti, perché sono il nostro motore di lavoro, se vogliamo. Lavorate anche con l'utente finale, con il sindaco. Sì, anche con i privati direttamente, qui entra in gioco sempre il nostro Sergio, che è una persona veramente professionalmente preparato, e poi insieme definiamo il lavoro. Il lavoro che spesso è un lavoro di contract, no? Nel senso che è andata a intercettare anche importanti lavori, il capitale, Roma piuttosto che... Sì, abbiamo lavori, sì. Lavoriamo sia a Roma che a Milano tantissimo, perché siamo artigiani, diciamo, un po' raffinati. Avete anche la parte degli arredi? Sì, sulla parte degli arredi abbiamo la tappezzeria, il tendaggio da cui noi nasciamo, quindi sulla tappezzeria facciamo tutti i pezzi su misura, soprattutto sia locali, alberghi, case private, divani, letti, con cui collaboriamo con gli architetti. Cioè, questa è la nostra forza. Con l'architetto facciamo molto il custom personalizzato e lì siamo forti. Ieri sera abbiamo fatto una conferenza, architettura e contesto, con Giovanni Vaccarini, architetto di Pescara, che abbiamo anche avuto qui ospite in queste giornate di interviste, e con Gianluigi Giammette, Giammette Giammette a Roma, che hanno raccontato il loro punto di vista proprio su questo grande tema, no? Del contesto e dell'outdoor in senso lato. C'è bisogno di una nuova cultura anche in quel senso lì? Perché, vabbè, io non conosco bene Pescara, ho fatto un giro, ho visto alcuni De Oro, ho visto alcuni alberghi, ristoranti. C'è, per fortuna, ci sono per fortuna dei nuovi codici, però voi, assieme agli architetti, avete una grande responsabilità di creare un'immagine coordinata in questo senso. Consoli è quello il progetto, quindi cercheremo di fare del nostro meglio per mandarlo. Cioè, adesso siamo partiti, è un nuovo progetto con questo grande evento, con l'avvento degli architetti, e cercheremo di portarlo avanti. Ci proviamo, che Dio ce l'ha avanti buono. Però per fare un progetto del genere, cos'è che ci vuole? Qual è la parola chiave? Allora, la parola chiave è da quello da dove siamo partiti, ritorno all'inizio, perché noi siamo nati come tappeziere, quindi ci reputiamo nati col tessuto, e quindi siamo nati con la stoffa. Con la giusta stoffa. Questo è. Grazie. Grazie a te.